Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti e code a tratti per traffico tra Sassomarconi e BV1 variante tra Aglio e Valdarno, tutto in direzione sud. Sulla Firenze Mare per traffico verso Firenze, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Prato Ovest e Firenze Ovest. E arriviamo in Fipili per traffico, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Per lavori inoltre, rallentamenti tra Cascina e il Bivio di Ramazione Pisa, SGC Fipili in direzione Firenze-Livorno. Prima di salutarci per il traffico navale, quest'oggi per maltempo è cancellato il traghetto Capraia-Isola-Livorno delle 17.45. Muoversi in Toscana-Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Per ora è tutto, buon viaggio!